Il Movimento 5 Stelle dice no al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'exilva di Taranto senza chiusura delle fonti inquinanti, bonifiche e decarbonizzazione, tutela dei lavoratori e chiede che anche il Consiglio Comunale si esprima contro. Proprio per questo è partita una raccolta di firme in Piazza Maria Immacolata che proseguirà anche online. Presenti il Vice-Segretario Nazionale Mario Turco, il Coordinatore Provinciale Francesco Nevoli e il Consigliere Comunale Mario Odone. È stata presentata una nuova AIA, noi diciamo no alla continuità produttiva a carbone. Io vorrei ringraziare innanzitutto i nostri attivisti di Taranto che hanno deciso questa petizione. Faremo una raccolta firme per stimolare il Consiglio Comunale a dare un indirizzo politico ben preciso sulla nuova AIA in modo tale da influenzare le decisioni di Roma e del governo Meloni che dopo aver introdotto lo scudo penale si accinge ad accettare e a prorogare ulteriormente questa produzione a carbone. Nel riesame AIA il termine decarbonizzazione, il termine riconversione industriale e economica del territorio non sono proprio presenti per nulla nel nuovo documento. Per questo motivo il Movimento 5 Stelle ha già detto no al riesame AIA in Parlamento. Tutto il Consiglio Comunale e la provincia di Taranto sono chiamati entro il 23 agosto a dare un parere che può essere vincolante per il governo. Abbiamo calendarizzato proprio questa settimana la discussione dell'AIA all'interno della Commissione Ecologia e Ambiente.